buongiorno signori oggi corso online con james dalla germania focacce pizze bucate e chi più ne ha più ne metta qui come al solito innanzitutto vedete i buchi con la cremina questo è il buono della focaccia la cremina in fondo al buco come al solito tagliato la sezione poi per far vedere l'ondulazione dei buchi e ve la faccio vedere eccoci qua allora no la parte dei buchi era questa eccola qua mi sono unto tutto ecco una bella carrellata sui buchi ciao belli grazie grazie